io vorrei capire questa tua agitazione interiore che sta da capire cioè che prima o poi la corda si spezza perché c'è dalle oggi dalle domani mio marito io non so più come fare basta che vedi una bella donna si dimentica di essere sposato secondo me il contrario come vedi una bella donna in quel momento se lo ricorda dolorosamente l'osped è che uno si vede e si rende conto ma c'è dove il mondo di qui qua qua che mi deve dire tu te li sai vabbè se lo sai la natura guarda che bel cane bello grosso ehi cagnone ciao c'è pure il gatto vedi ehi gattone ciao vedi vedi sta pure il coiote ehi ciao ciao hai finito perché stai guardando il culo di quella mo sto guardando il tatuaggio il tatuaggio il tatuaggio sta sopra la spalla capito ma sta scritto guarda il culo vedi la figlia vedi se ti giri dall'altro lato per piacere che mi stai facendo nervosire mo e poi dopo tre mesi mi sono fatta la terza dose e tu manco la prima mi sono fatta io scusa tuo marito non è un medico sì allora perché non ti fai vaccinare ha detto che preferisce farmi il tampone tutti i giorni ci resta non mi piace comunque beata te dimmi oh amore ma e dove stai sto aspettando l'autobus ma e sbrigati va bene dai ok adesso lo aspetto più velocemente va bene c'è sceglie dai sottoli ola dondino oggi però non è cosmo come ti senti come lazzaro cioè sto in piedi per miracolo allora piano piano scendo a continuare a ruotare la ruota piano abbiamo deciso sì ha qualcosa che non faccia ingrassare magari qualcosa senza zucchero senza zucchero tovagliolini guardi poi senza un attimo di zucchero a velo però questo sei tranquillo che con questo non ingrassi no anzi ti diamo uno e due arrivederci signorina mi dispiace non può passare nessuno c'è il presidente domani dopo le 11 mi dispiace la legge è uguale per tutti la deve cambiare andare che soldi che soldi signorina non può passare nessuno e te ne va non può passare nessuno c'è il presidente figliolo io posso passare posso passare va dietro va non può passare nessuno può passare nessuno ma ti sto dicendo che posso passare ma ti sto dicendo che non puoi passare io posso passare perché chi sei con chi sono su ordinazione salve salve senta devo rifare la carta di identità perfetto ha portato la vecchia si la no e dai ti stai ma no eh salve signora salve signora salve signora Grazie a tutti.